Cambiamo argomento, l'istituto di istruzione secondaria superiore Galileo Galilei di Bolzano è stato ampliato, il sopralluogo da parte dell'assessore provinciale competente Massimo Bessone. Le opere di ampliamento dell'edificio che ospita il polo scolastico secondario Galileo Galilei di via Cadorna a Bolzano sono state in gran parte ultimate. Il progetto di ristrutturazione e ampliamento ha interessato uno spazio di circa 15.900 metri cubi. Sono molto contento di essere qui, ero stato nel maggio del 2020 dopo il primo lockdown e questo era un po' il simbolo della ripartenza perché iniziavano i cantieri, si dava lavoro agli operai e soldi alle famiglie. È una scuola molto importante perché prepara i ragazzi al mondo del lavoro, all'università, dal punto di vista tecnico offre un concetto pedagogico molto importante. Anche noi l'abbiamo studiata e rinnovata sotto un profilo pedagogico innovativo. Abbiamo tenuto conto della sostenibilità e della sicurezza perché nelle scuole ci studiano i nostri figli il nostro futuro. La nuova struttura è stata costruita con materiali sostenibili e rispettando i più recenti standard ambientali, mentre le aule normali e quelle per le attività didattiche speciali sono state dotate di attrezzature high tech. Il costo complessivo dell'intervento ammonta 7,2 milioni di euro. Abbiamo seguito il progetto e ho avuto modo di seguire io come responsabile del procedimento per l'ufficio e la ripartizione il progetto, soprattutto nella fase dell'esecuzione dei lavori e del cantiere. Quali le peculiarità? Come abbiamo visto si tratta di un ampliamento sulle officine esistenti, quindi siamo riusciti a dare degli spazi nuovi alla scuola, delle aule adeguate alle nuove esigenze didattiche. Infatti quello che interessa è un po' il concetto architettonico interno, questi spazi sono flessibili, ci sono delle pareti divisorie che si possono aprire, e permettono quindi di avere delle superfici uniche come anche di svolgere le lezioni in aule separate tra loro. Altre caratteristiche magari su contenimento energetico, c'è un tetto verde che copre questo nuovo ampliamento come anche un cortile all'esterno che riprende l'opera. Il tetto del nuovo piano è stato ampiamente rinverdito e dotato di lucernari che donano maggiore luce naturale nelle nuove aule e ai laboratori. Per valorizzare ulteriormente l'ampliamento e infine il rivestimento esterno della facciata è stato tinteggiato in due differenti tonalità cromatiche. Grazie. Grazie.